Incensi e profumi per ambiente potenzialmente cancerogeni e poi orecchini, bracciali, collani, anelli e diversi preziosi falsi e forse tossici. Sono oltre 23.000 prodotti non in regola con la normativa sull'etichettatura rinvenuti e sequestrati dalle fiamme gialle del comando provinciale di Pescara nell'ambito del piano d'azione Stop Fake a tutela dei consumatori e della salute pubblica contro il commercio del tarocco e la riproduzione illecita dei beni. Nel dettaglio bastoncini d'incenso per ambiente di varie fragranze e colori non conformi ai criteri previsti dal codice del consumo e pericolosi per la salute a causa del rilascio in fase di combustione di sostanze altamente tossiche e irritanti per le vie respiratorie, componenti che in varie forme possono dar luogo persino a problemi polmonari peggiorando i sintomi dell'asma, ma possono anche provocare vertigini, irritazione degli occhi, mal di testa e perdita di memoria. Non di meno, i pezzi di bigiotteria sequestrati per mancanza di packaging adeguato e di informazioni sull'eventuale uso nella loro realizzazione di materiale tossico del tipo nickel posti a contatto con la pelle possono scatenare molte reazioni allergiche per la presenza di elementi organici vietati dalla legge europea perché provocano eczemi e arrossamenti. I prodotti non sicuri sono stati trovati esposti in vetrino sugli scaffali fra la merce venduta regolarmente da un giovane shopper cittadino del Bangladesh durante le ispezioni condotte dai finanziari nei confronti di negozi casalinghi e bigiotteria. Le indagini infatti partite dall'analisi dei flussi merceologici provenienti dall'estremo oriente hanno consentito di mappare le attività delle società locali quantificandone il rischio di contraffazione. La diagnosi investigativa e il conseguente follow up sul falso destinato al territorio della provincia hanno portato quindi a intervenire con sopralluoghi nei punti vendita target. Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio competente per detenzioni a fine di vendita di prodotti contraffatti e nei suoi confronti è stata contestata una violazione amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di oltre 25.000 euro. Grazie per la visione!